Sempre Fenice Arcana ti chiede Quindi per un editore è più interessante scegliere un prodotto e viene prima sponsorizzato dagli autori sui social vari e poi c'è un'altra domanda sempre sullo stesso argomento di Il Mondo Secondo Ti che ce la fa da Twitch e ti scrive Quindi ricapitolando se un autore si crea una fanbase sui social e nelle fiere e dopo propone il suo gioco è più interessante dal punto di vista degli editori, corretto? Non voglio essere frainteso Il valore aggiunto che può portare un autore in termini di fanbase è senz'altro importante ma non perché cioè realisticamente un autore esordiente che sia anche creato la sua paginetta per il suo gioco potrà portare 100 o 200 interessati anche perché se ne ha molti di più probabilmente si farà un Kickstarter dico io anche perché è stato veramente bravo a già creare un marketing che ha coinvolto qualche migliaio di persone ma se crearsi una fanbase non è una condizione necessaria e sufficiente ad essere pubblicati non sono le 50 copie in più della fanbase che convincono l'editore a pubblicare quando vi dico avere una notorietà mi riferisco al fatto che un autore già edito si porta con sé un'eredità di potenziali clienti che sono già appassionati con l'editore è il motivo per cui Rosenberg viene accolto a braccia aperte da ogni possibile editore come un Feld come un Knizia perché? perché i fan di Knizia comprano t'aiuto anche se è Get on Game Super Meeple e non è magari dell'editore Prime che ha sempre pubblicato Knizia perché sono fan di Knizia e vogliono i giochi di Knizia quindi avere una fanbase è più riferita al fatto di essere un autore già pubblicato non di essere riusciti in maniera artificiosa a crearsi più o meno anche in maniera genuina una fanbase ma avere già dei giochi edit avere già uno stile riconoscibile come l'autore di romanzi che continua a pubblicare romanzi cioè oggettivamente se voi foste un editore pubblichereste più volentieri ora forse scelgo proprio l'esempio più sbagliato non lo scelgo perché in questo momento è in una shitstorm totale avete capito di chi parlo scelgo uno che non è in una shitstorm pubblichereste molto più volentieri il nuovo romanzo fantasy se fosse mai possibile realizzare questo sogno erotico di Tolkien o di un autore sconosciuto piemontese che magari è un mostro il nuovo Tolkien però non è Tolkien Tolkien ha tutta la sua fanbase in questo senso parlo di fanbase quindi quando vi dicono eh ma c'è il cartello fra editori e autori gli autori già pubblicati vengono sempre pubblicati non è così gli autori esordienti vengono costantemente pubblicati è che un autore pubblicato già pubblicato aggiunge del valore all'opera ha già un'esperienza ha già un know-how ha già dei suoi fan quindi è senz'altro qualcosa che si porta in bagaglio una sua eredità qualcosa di buono che l'editore considera questo però non preclude che l'autore esordiente possa essere pubblicato tuttavia non mi concentrerei come autore sulla ricerca e la costruzione di una fanbase a meno di non volere andare su Kickstarter e quindi autopubblicarsi autoproduzzi mi concentrerei sul fatto di lavorare sulle proprie caratteristiche cioè sono un autore esordiente non perdo tempo nel cercare di creare una fanbase che tanto sarebbe soltanto artificiosa devo e sono consapevole essere ancora più attenta alle dinamiche di mercato ai trend devo essere più attenta a quello che sta pubblicando la casa editrice cioè devo far devo pormi di fronte all'azienda dicendo io so che sono un esordiente però ho fatto i compiti a casa io lavorerei molto di più su questo quindi su cosa dovete fare materialmente dovete siete un autore dovete essere in tutte le chat di telegram dove si parla di giochi dal tavolo dovete essere in tutti i gruppi di giochi dal tavolo dovete guardarvi tutti i video delle case editrici come la mia come iora o quelli che vengono fatti anche internazionali dove c'è un editore un autore affermato che parla dovete seguire la cultura pop quindi film video videogiochi volevo dire scusate non video musica perché no cioè dovete essere al passo coi tempi non dovete vivere in una vostra bolla dove ancora guardate Dragon Ball GT che io adoro ma dovete anche capire un attimino dov'è l'attenzione oggi cioè cavolo ne so i Pokémon stanno tornando di moda perché forse se i Pokémon stanno tornando di moda un gioco dove usi degli animaletti speciali può essere interessante ho detto una cavolata qualunque ma per farvi capire che cosa che cosa qual è il videogiocone annunciato per metà del 2022 o del 2021 perché quelli sono gli anni che ti interessano e lì devi lavorare devi proiettarti là non sul passato su dove andrà l'azienda dove andrà il mercato quindi devi stare dove c'è la conversazione e devi stare al centro di quella conversazione ascoltare recepire informazioni capire i clienti che cosa stanno apprezzando che la bolla del Roll & Write di scarsa qualità stesse esplodendo c'era già sentore 6-7-8 mesi fa se oggi presentato un Roll & Write a un editore è difficile che ve lo pubblichi è difficilissimo noi localizziamo Welcome to perché Welcome to è uno dei migliori di Roll & Write uno dei più apprezzati sul mercato è una easy win per noi ma se oggi mi propone un Roll & Write deve essere una bomba allucinante e quando lo approccerò inevitabilmente avrò il pregiudizio del fatto che in questo momento il Roll & Write è un genere che ha un po' stancato poi ci saranno milioni di Roll & Write stravalidi che se pubblicati domani potrebbero vendere però dovete sapere che dovete scalare una montagna mentre se magari il trending 2020 e 2021 sono investigativi deduttivi più di natura family vi buttate un po' su quello e magari centrate già un'ambientazione un setting valido per le mode che si stanno mettendo in piedi ora e andranno avanti per un paio d'anni centrate molto di più l'obiettivo quindi se siete esordiente dovete fare la vita dell'esordiente quindi dovete studiare di più se siete un odore già edito avete come ulteriore bagaglio la fanbase cioè la fanbase vi permette qualche ingenuità qualche brutto da dire perché poi gli autori già editi sono estremamente professionali però qualche ingenuità in più viene concessa a favore del fatto che è un autore già edito e quindi ha già un suo supporto ha già un suo gruppo di gente che è disposta ad acquistare la sua firma anche se nel nostro settore devo dire una cosa c'è molta meno meno attenzione alla firma di quanto ce n'è nella musica nel cinema nei romanzi questo è un dato curioso interessante cioè ancora oggi alla firma si bada poco mentre pensate quando esce un nuovo romanzo di Stephen King ci può essere scritto secondo me se Stephen King fa una trollata e domani pubblica un romanzo di tutte pagine vuote dove alla fine scrive l'assassino e il maggior domo diventa un best sell The New York Times ma ne sono strasicuro quindi Stephen se segui quest'idea voglio la royalty che c'è Grazie a tutti